Sia lodato Gesù Cristo Un saluto carissimo a voi che ascoltate Gesù parla ai Suoi discepoli, o meglio anche agli aspiranti discepoli chi vuole essere il mio discepolo, cioè chi vuole seguirmi di chi sta parlando? Non sta parlando semplicemente di chi accoglie la sua fede e dunque lo tiene nel cuore e lo applica nella propria vita conducendo la propria vita laddove Dio lo ha posto e cioè una casa, una famiglia, un lavoro, qualsiasi tipo di attività ma cristianamente intesa e vissuta Sta parlando dunque ai discepoli o coloro che vogliono seguire Gesù Materialmente con Gesù bisognava proprio seguirlo perché egli peregrinava da nord a sud per tutti i territori che erano della attuale Palestina, Israele fino alla Giudea e anche in territori dunque non propriamente caratterizzati dalla fede Il suo era un peregrinare, un andare materialmente a piedi affrontando tutti i disagi del cammino con ogni tempo e dormendo dove si poteva mangiando come si poteva e quindi forse condividendo con Lui digiuni, sforze, fatiche, accoglienze e anche i rigetti, i rifiuti di Lui che alcuni parecchi avevano Essere discepolo di Cristo quindi voleva dire, condividere la sua vita e la sua missione lasciare tutto per seguire Lui dimenticandosi di se stessi, della vita precedente e rimanendo così nel vuoto dove il Cristo è il tutto Chiama il padre, la madre, il fratello, la sorella più di me Non può seguirmi, non è degno di me Se avete degli affetti principali da cui non potete staccarvi non seguitemi come discepoli perché il percorso è duro e molto esigente Poi fa due paragoni Un paragoni di una torre da costruire e di una guerra contro un re più potente Torre vuol dire impresa dove bisogna calcolare bene non solamente gli sforzi ma i mezzi e le proprie forze per non rimanere a metà con il lavoro incompiuto che a nulla serve Così come anche seguire Gesù vuol dire andare incontro a opposizioni tali per cui è facile anche perdere se non si ha la forza sufficiente Le opposizioni spirituali e dunque umane E dunque la resa con Gesù non è ammessa Bada bene, dice dunque al suo discepolo di calcolare bene le tue forze la tua capacità di distacco la tua volontà fino in fondo di non cedere mai e di avere me nel cuore sopra ogni cosa e sopra tutti A chi sta facendo Gesù questo? Viene in mente fra i dodici chiaramente Giuda di cui egli conosceva il cuore e lo avvisa se è ancora in tempo forse è meglio che lasci perdere tu ti sei proposto io ti accolgo ti costituisco ma se devi andare verso la rovina ritirati finché sei in tempo perché sarai travolto dalle delusioni del tuo cuore che avevano delle aspettative aspettative dalle quali non ti sei mai staccato aspettative di ricchezza di gloria terrena e di potere che verranno disilluse tutte quante e dunque tu ti troverai contro un nemico più grande nei quali invece tu ti farai alleato che è il demonio e con questo per vendicarti su di me perché io non ti ho mai dato né promesso nulla di ciò che il profondo del tuo cuore invece desiderava il potere il dominio la gloria l'onore io salgo su una croce tu vuoi salire su un trono io non ho dove posare il capo ma tu vuoi le regge io ho nemici fra i potenti sia della fede della religione che i potenti fra i gentili tu invece vuoi essere parte di una classe dominante ed avere affari e faccende con loro per poter anche tu condividere quello che loro hanno i nostri destini sono diversi e sono separati sei ancora in tempo ritirati prima di commettere il grande gesto quello del tradimento della consegna al nemico perché questo la mia morte sarebbe stata inevitabile ma forse tu avresti potuto evitare questo tu proprio tu tu che mangiavi il pane con me e condividevi tutto quanto quello che era la mia missione venuta dal cielo lo dice questo a noi oggi se siamo ancora legati agli onori alle glorie ai troni ai poteri a condividere i mondi prestigiosi e litari a essere parte di un mondo che è un mondo che Dio dice di lasciare mentre invece noi vogliamo proprio quello se abbiamo in cuore questo bisogna essere molto attenti perché il distacco da noi stessi la lotta contro le cattive inclinazioni che tutti abbiamo così pure anche la seduzione che il mondo ci offre fa sì che il nostro sacerdozio diventi fonte possibile di un tradimento più forte più disastroso come lo fu quello di Giuda perché se cade un fedele è un'anima che si perde ma se cade un pastore cadono con lui tutte quante le anime che erano destinati ad essere salvate da lui meglio dunque meglio dunque ritirarsi meglio dunque entrare monchi nel regno dei cieli piuttosto che avere questo destino adesso un'ora di gloria dopo l'inferno per l'eternità è un esame di coscienza molto serio che il Signore ci chiede continuamente essere degni di lui staccati dal mondo per amare le anime da salvare qualunque sia il loro genere condizione sacrificarsi per loro dare la vita accettare tutti i colpi che vengono inferti a Cristo attraverso di noi perché siamo a sua continuazione suo corpo mistico per condividere con lui il cammino della croce redenzione nostra redenzione delle anime Dio vi benedica